Tre valanghe in un paio d'ore, due feriti, nessuna tragedia. È il bilancio di una mattinata impegnativa sulle Dolomiti. Il primo distacco è avvenuto alle 9 sulla Tofana di Rozes a 2700 metri di altitudine. Tre amici stavano affrontando a piedi con i ramponi il traverso che porta lo spallone 200 metri sopra il rifugio Giussani. Si sono ritrovati sopra un cumulo di neve ventata che ha ceduto. Una ragazza del gruppo, una 27enne di Tolmezzo, è stata trasportata per 150 metri e per fortuna non è stata ricoperta dalla neve dato che non aveva con sé l'Artva. Sul posto sono arrivati l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, una squadra del soccorso alpino di Cortina e del soccorso alpino della Guardia di Finanza con un'unità cinofila portata in quota dall'elicottero dell'Air Service Center. La ragazza, con un sospetto trauma alla schiena, è stata quindi accompagnata all'ospedale di Belluno per gli accertamenti del caso. Le successive ricognizioni hanno escluso la presenza di altre persone sotto la neve. Alle 10.40, lanciato da due estimoni, è scattato il secondo allarme per una valanga sul passo della Sentinella, il confine tra il Comerico e l'Alto Adige. Sul posto il pelican di Bolzano è l'elicottero del Service Center che ha subito portato in quota l'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza che aveva terminato di operare a Cortina per poi provvedere al trasporto in quota di altri soccorritori. In questo secondo caso l'incidente ha colpito uno sci alpinista veneziano di 28 anni che aveva originato un piccolo distacco ed era stato trascinato a valle per 300 metri riportando traumi e ferite ma rimanendo in superficie. Mentre gli operatori ultimavano il soccorso da un canale vicino si è staccata un'altra valanga molto più grande che però non ha travolto nessuno. L'inalzamento delle temperature e le grandi quantità di neve in quota sono i due fattori che hanno portato il livello di rischio valanghe da debole a moderato.